Amici di calciomercato.com, rieccoci, Alessandro Di Gioia, Angelo Taglieri, ciao Ale! Sempre pronti, sempre splendidi per nuovi video delle scommesse, nuovi consigli per il weekend con una telecamera nuova che spero ci renda anche più belli. Sì, splendidi infatti è dura, è difficile, adesso vedremo con questo full HD saremo ancora più brutti, però magari prenderemo una schedina, che ne dici, che forse è meglio. Non so se è meglio essere considerati belli o prendere le schedine, o prendere insulti nei commenti, si prendono ugualmente dappertutto. Solita sfida giusto, sabato e domenica, settimana scorsa stendiamo un velo pietoso, cominciamo subito con quella nuova, noi pensiamo subito al futuro. Subito al futuro, siamo già protetti al mercato estivo, tanto che le scommesse di questo turno ce ne sbattiamo un po' perché già pensiamo al mercato che c'è tanto lavoro da fare. Parto io, c'è tanta Italia e infatti parto dall'unica straniera che è la sfida tra West Ham e Everton, West Ham che è sempre l'altra allenante quest'anno, dall'altra parte c'è l'Everton con uno di quelli che sarà un uomo mercato, vale a dire Romelu Lukaku, che sta continuando a segnare, del nostro Federico Albrizio. Salutiamo. Salutiamo, ciao Albri, West Ham e Everton non mi gioco il risultato, mi gioco il gol, comunque l'Everton fa tanti gol, però ne concede anche qualcuno, un gol che ha dato a 1,55. L'ho giocata solamente per rotondare perché il piatto forte arriva adesso, tantissima serie B, la sfida Ascoli-Brescia, questa suggerita dall'altro collega Andrea Distaso, magari lui, anzi sicuramente ne capisce di più, magari ha anche più fortuna di me. Ascoli, tanti giovani interessanti, due su tutti che sono Orsolini e Favilli, dall'altra parte Brescia che ha esonerato Brocchi per fare spazio a Cagni da un po', si sta leggermente risollevando, anche nel Brescia tanti giovani bisoli su tutti che stanno ben figurando. In questa stagione però sono casalingo e vado dalla vittoria a Bianconera che è data 2-0-5, una buona quota per una squadra che comunque gioca in casa. Poi Bari-Verona, Bari che sta andando effettivamente male nell'ultimo periodo, non come l'altra pugliese che invece sta volando in Lega Pro, però non diciamo ancora niente. Bari che nonostante un potenziale soprattutto offensivo importante sta faticando, dall'altra parte il Verona che non se la sta comunque passando meglio perché ci si aspettava sempre qualcosa di più. Adesso ha riagguantato il Frosinone comunque al secondo posto. Secondo me gli stimoli del Verona faranno la differenza in questa partita, quindi gioco il 2 che è dato a 3. Poi Spezia-Virtus-Sentella e lo Spezia stesso discorso un po' per il Bari. Derby tra l'altro. Stesso discorso un po' per il Bari che comunque ha un potenziale offensivo importante e adesso si riabbraccia il Diablo Granoccio e quindi Di Carlo può puntare su un puntero in più. Per questo motivo per il rientro del Diablo in campo gioco l'1 che è dato a 2. Latina Spal, Spal è rivelazione, Spal Capolista che sta provando la fuga. Mirco Antenucci 101 gol in Serie B. Un amico di Angelo che lo ha intervistato. Un amico di calciomercato.com, c'è la nostra intervista di qualche settimana fa che ha portato stranamente bene dato che l'ho fatta io. Anche qui credo che le motivazioni della Spal siano talmente grandi da fare la differenza. Un 2 che è dato a 2 quindi consiglio vivamente di giocarlo. Infine Serie A. Fiorentina-Inter, due squadre che non se la stanno passando bene. Soprattutto l'Inter nell'ultimo turno ha visto al 97esimo Zapata fare un pareggio ispirato per i rossoneri ma che ha fatto godere tutto il popolo milanista. Un po' meno quello interista. Fiorentina che non ha più nulla da dire ormai in questa stagione con un Paolo Sosa destinato ad andare via. a tanti uomini che saranno interessanti sul mercato da Bernardeschi a Kalinic. Attenzione magari Milan Kalinic. Potrebbe essere una pista. Attenzione e quindi gioco una X, due squadre deluse che comunque proveranno a dire da loro una X a 3,50. 5 euro 745. Beh direi bene, hai fatto un po' un giro tra la tua amata Serie B. La mia amata Serie B che mancava da un po' dato che domenico ho dovuto giocare il campionato cinese. Chiedo scusa per i miei giocati domenica scorsa. Sono vagabondo anch'io dopo le scuse di Angelo e faccio anche un giro non soltanto in Serie A ma anche nei campionati esteri e in quelli considerati minori. Parto però proprio dalla Serie A. Chievo-Torino, una sfida tra due squadre che un po' come la Fiorentina hanno mollato chiaramente non avendo più degli obiettivi importanti ma tireranno poi fino a fine stagione per provare a programmare già la stagione futura quindi dell'anno prossimo. In questo caso appunto nella sfida di Verona, del Bentegodi, punto sul Torino. Non tanto appunto per gli obiettivi in campo da guadagnare quanto per il fatto che il Torino ha veramente un attacco stratosferico. Credo che possa avere la meglio di un Chievo che è apparso anche un po' distrato poi nella trasferta di Cagliari quindi meno solido dal punto di vista difensivo. Trattano anche voci sul futuro di Marane che sembra un po' invidico. Sorrentino che non gioca più titolare. Meggiorini infortunato, non è una situazione facile. Bocca al lupo anche a Meggiorini che si è fatto male e speriamo di rivederlo l'anno prossimo. E quindi appunto vi consiglio di giocare il 2 dato a 2.30 quindi la vittoria degli uomini di Mia e Lovic proprio nella trasferta in Veneto. Dopodiché passo appunto ai campionati esteri. Seltavigo-Real Betis. Una quota alta per il Seltavigo che gioca in casa è dato a 2. Ha veramente una squadra importante nonostante abbia ceduto Nolito. Comunque conta su Iago Aspas che ha fatto benissimo in questa stagione. Può ancora raggiungere l'Europa League quindi credo che poi appunto nella sfida Casellinga proprio contro il Betis possa avere la meglio. Una quota appunto data a 2 e vi consiglio di giocare l'1 e magari di mettere la canzone che spesso parte a Vigo quando segna Iago Aspas. Se segna Iago Aspas è uno spettacolo. Sulle notte di Will Grieves on Fire. Chiaramente quella di portata avanti durante l'Europeo è veramente una canzone spettacolare. Dopodiché vado in Germania. Schalke 04 Lipsi ha un big match diciamo perché lo Schalke sta ancora lottando per l'Europa League anche se è molto complicata. Ha perso l'ultimo turno con il Darmstadt già a retrocesso. È veramente una stagione non facile per i tedeschi. Dall'altro lato però altri tedeschi dell'Est ex-Est. Lipsia che è a un passo della qualificazione aritmetica alla Champions League e vuole continuare chiaramente a far bene magari cullando anche qualche sogno di titolo anche se è molto complicata soprattutto dopo l'uscita del Bayern Monaco dalla Champions League. Mi gioco per questo motivo l'uno. Dopo tutto questo discorso è dato a 2,75. Credo che il fattore casalingo una squadra delusa come lo Schalke è abituata a partite importanti di questo livello possa essere fondamentale. È dato a 2,75. Mi sposto poi in Olanda perché c'è una partita molto importante. I PSV in Dover, Ajax. Il PSV è ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo mentre l'Ajax insegue il Feyenoord della squadra di Rotterdam. L'Ajax che l'anno scorso perse il campionato proprio l'ultima giornata quindi quest'anno spera di poter rendere il favore ai rivali del Porto. Quindi nella sfida poi tra queste due squadre mi gioco il 2 nonostante il battore casalingo appunto per i migliori di Ndover ma il 2 perché l'Ajax deve vincere per rimanere in scia ai rivali. Data a 2,85. Chiudo, anzi non chiudo perché poi c'è il big match quello che mi sono lasciato per ultimo da giocare però chiudo per quanto riguarda invece l'Italia con Lecce e Messina. Lega Pro, Girone e C. Il Lecce ha bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella possibilità di raggiungere il Foggia che comunque con un pareggio nella giornata di lunedì andrebbe a essere promosso matematicamente. Questa era la trapugliese di cui parlavamo prima. Arritmicamente in Serie B. Io credo che Lecce vincerà col Messina anche perché Messina sta vivendo un periodo difficile. La situazione legata alle scommesse, Lucarelli che non ha avuto una stagione sicuramente facile. Un 1 dato a 1,75 per continuare a sperare nella promozione diretta anche se è molto complicato appunto perché al Foggia basta un punto. Chiudo poi con il big match. La partita impossibile da non giocare diciamo nella giornata di domenica Real Madrid-Barcellona. Real Madrid sulle onde dell'euforia per essersi qualificato contro il Bayern Monaco, un Cristiano Ronaldo che ha fatto 100, che continua a dimostrare di essere veramente in forma, di essere veramente uno dei migliori al mondo e dall'altra parte il Barcellona invece del deluso Leo Messi, sbattuto fuori dalla Juventus che dovrà dare una risposta con una vittoria se possibile al Santiago Bernabeu se vuole ancora sperare nel titolo. Per questo io gioco la X. Una X data 3,80. Credo che tra le due squadre possa uscire questo risultato con un Barcellona che attaccherà e che ripartirà in contropiede. Ha già dimostrato di saperlo fare benissimo con il Bayern. 5 euro, 1.198,75. Fra un po' mi doppi quasi. Speriamo di portarne a casa anche solo 20 per una volta. Diciamo che le possibilità di prenderle già che ora che la sto riguardando. Vabbè, ma è giusto di essere convinto. Io sono convinto delle scelte che ha fatto Ale, soprattutto quella del Foggio. Non hai giocato il Foggio, va bene così, Lecce. E niente, questi sono i nostri consigli per questo weekend in attesa di darvene altri sicuramente giusti perché prima o poi arriverà il giorno in cui porteremo a casa una schedina. Magari settimana prossima non facciamo manco la sfida, ne giochiamo due ma insieme per provare a vincere qualcosa. Sto controllando di aver messo tutte le partite, mi sembra di sì. C'è tutto, siamo prontissimi. Vi ricordo di commentare ovviamente il pezzo con i vostri consigli, le vostre schedine, i vostri insulti o le vostre cose che volete dirci e soprattutto ricordate che se volete vincere leggete Mr. Palmieri. Esatto, noi siamo quelli simpatici, lui è quello bravo. Lui è quello bravo e bello. Ciao a tutti!